buongiorno a tutti inizia un nuovo giorno ripara il caffè abilmente come abituato a fare tra biscotti e frutta vince la banana la tazza è piena fino all'orlo di caffè bollente ansioso di avere la sua dose di caffeina cerca subito di prenderne un sorso è andata la giornata inizia in modo tosto ma un attimo proprio mentre sta pensando che la sua giornata sarà una passeggiata ricomincia il dolore questo evento inaspettato potrebbe rovinare tutta la sua giornata sembra che stia tornando si sta preparando per uscire questo è lo spirito ecco un passo dopo l'altro e arriverà in ufficio attento al tombino e ora si va dritti al lavoro sembra avere tutto sotto controllo adesso è il momento della verità no lo stesso dolore sarà in grado di continuare la tragedia incombe è riuscito a sedersi sì ha aperto il suo computer e comincia a scrivere è uno sforzo lodevole ma un momento sembra che stia cercando delle soluzioni per andare avanti sì ha scelto in deva ottimo una scelta molto saggia la soluzione a tutti i suoi problemi e dolori questo giorno passerà alla storia che incredibile vittoria a proposito contabilità con una sola b